Una notizia che ha lasciato molti perplessi, Alberto Corsi si ritira dalle gare. Lo sciatore più vincente tra i master, intento a conquistare titoli su titoli in oltre 50 anni di attività agonistica, alla tenera età di 91 anni ha deciso di non gareggiare più. Titoli mondiali, coppe, medaglie, nella casa di Macugnaga i trofei collezionati non si contano. Tuttavia il maestro di sport e vita non appenderà gli sci al chiodo. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Gioielleria Rossi, il nuovo negozio in via Briona a Domodossola.